Ciao, bella Slow Beats per il contest, io sono Mark the Wolf, spario un autocrew, Teramo città, più periferia che città però, Abruzzo. Prima di iniziare volevo fare una premessa, il testo è stato completamente ispirato dalla base, è pura inventiva, non augurerei a nessuno questa storia, tantomeno l'attuerei io, mai e poi mai, comunque bando alle ciance, andiamo. Ciao, c'è la freddura ragazzi. Pensieri raconti e miei ragioni di vita nella sala operatori e investigatori svestono la mia memoria, non rispondo, sembro una persona sorda, pugile, fragile, sotto ho messo la corda, allora vuoto il sacco, do di matto, attonito vomito tutto ciò che ho fatto, mia figlia è nata, la dottoressa mi ha rincorso, complimenti e padre di un rimorso. Non fate del male alle persone, mai. Amen.